Abbiamo con noi, se non sbaglio perché la regia mi faceva cenno, un altro ospite, eccolo qua, Nicola, ben trovato, Nicola Campomorto, che è con noi oggi per parlare di un argomento a me molto caro, ma credo che anche ai telespettatori di Cilento Channel, è caro. E quindi il tema delle tartarughe marine che in questo periodo stanno nidificando sul nostro territorio del Cilento, ma anche in regione Campania. Ben trovato, Nicola. Buongiorno a te e a tutti, grazie per l'invito. Sì, parliamo di tartarughe. Perché questa notte è un altro nido, siamo arrivati a 17, giusto Nicola? Esatto, sì, perfetto. Ho visto il tuo posto, io ti seguo perché, come ci dicevamo, insomma, in questi giorni ci siamo messi in contatto proprio per realizzare questo collegamento. Insomma, sono appassionata di animali, di tartarughe, quindi seguo con piacere davvero quello che tu svolgi quotidianamente. Ricordiamo anche che sei un volontario, insomma, per quanto riguarda le attività, i progetti di monitoraggio, per quanto riguarda appunto la caretta caretta. Fai parte dello staff della stazione zoologica Anton Dorn di Portici. Ovviamente non ti occupi solo di tartarughe, però avremo modo poi di parlare anche di altro. E allora, raccontaci un po' come sta andando il monitoraggio di queste nidificazioni. Allora, sì, siamo proprio questa mattina, è stato individuato il 17esimo nido a San Mauro Cilento. Siamo attualmente terzi, diciamo, la classifica ovviamente non ha nessun riscontro sportivo, insomma, economico, ma è solo un rapporto attuale di quella che è la situazione italiana al momento. Siamo terzi dopo la Sicilia e la Calabria, che giustamente hanno avuto sempre maggior numero di nidificazioni. Siamo, diciamo così, in ritardo rispetto alla media magari dell'anno scorso. L'anno scorso eravamo a oltre 30 nidi in questo periodo, però ci sta, insomma, il fattore ritardo, o comunque la minor numerazione di nidificazioni potrebbe attribuirsi al fatto che, diciamo così, le caretta caretta non nidificano tutti gli anni, ma per un anno di nidificazione che fanno possono stare anche uno o due anni senza nidificare. Quindi, diciamo, le mamme che hanno nidificato lo scorso anno quest'anno non ci sono, quindi probabilmente è dovuto anche a questo, insomma, la popolazione è minore, quindi i minor nidi in Campania. Dicevamo poc'anzi perché abbiamo avuto in collegamento Michele Bonomo, ex presidente di legambiente Campania, ma ancora, insomma, nel direttivo di legambiente attivissimo per il nostro territorio. I nidi quest'anno sono di meno rispetto allo scorso anno, come hai detto tu. Si pensava al caldo, insomma, a questo caldo rovente che stiamo assistendo in queste ultime settimane, ma credo che non sia proprio questo il problema, è vero Nicola? No, diciamo che le temperature per loro non sono un problema, anzi, purtroppo, dico purtroppo perché qui viene la nidificazione di questa specie alle nostre latitudini, è un chiaro riferimento del fatto che ci sta un cambiamento climatico in corso, che appunto loro hanno allargato il loro areale alle zone dove prima magari stazionavano solo per foraggiamento, le tartarughe ci sono sempre state, diciamo, dalle nostre parti, però mentre prima si trovavano qui solo per mangiare, ora con l'innalzamento delle temperature dell'acqua, insomma, restano pure per la nidificazione, poiché queste specie qua sono, diciamo, questi esemplari che stanno nidificando adesso qua, non sono nate qui 20-25 anni fa, ma sono delle, diciamo così, esploratrici, nel senso che la caretta caretta è legata al sito dove nasce, da questa caratteristica detta appunto filopatria, che però non è avvenuta in questi esemplari, che hanno scelto le nostre spiagge perché si trovavano qui, l'hanno ritenuto idone e quindi ci hanno iniziato a deporre le loro uova. Ci puoi raccontare come avviene il monitoraggio, da cosa si parte per poi arrivare a capire che c'è un nido di una tartaruga su una spiaggia? Allora, la prima cosa da fare è sicuramente un minimo di formazione per quanto riguarda le persone che decidono di avvicinarsi a queste attività, ricordiamo che è un'attività di volontariato, che però ha delle soddisfazioni molto belle, che si concludono appunto con la schiusa delle tartarughe. Quello che facciamo materialmente è passeggiare nelle prime ore della mattina, diciamo che non preferiamo quelle ore perché siamo mattutini anzi, ma per un fatto di ombre, nel senso che il sole basso la mattina consente una maggiore proiezione dell'ombra, quindi un'ombra più lunga delle tracce, quindi sono più facilmente visibili rispetto magari a un orario che può essere quello di mezzogiorno o del pomeriggio. Soprattutto si fanno queste cose di mattina, pure perché dobbiamo anticipare sia la presenza dei bagnanti che la presenza di mezzi meccanici che comunque lavorano la sabbia la mattina e quindi si rischia insomma di farle, di perderle. Perfetto, e dopodiché insomma una volta avvistato un nido, poi come si va avanti? Si traccia questo nido e si mette in sicurezza perché poi c'è la schiusa, giusto? Esatto, perfetto, hai detto benissimo. Il personale volontario che assiste, che trova le tracce al mattino, deve chiamare la Capitaneria di Porto al numero nazionale 1530 o magari ai riferimenti locali e avvisare il centro di referenza. Nel caso della Campania, ad esempio della stazione zoologica di Napoli, l'Anton Dorn, c'è un numero di reperibilità che insomma si trova sia su internet che sulle locandine che stiamo distribuendo in tutta la Campania. Mettono in sicurezza il nido nel senso che tracciano una sorta di transenna, transennano con materiale che trovano in loco sia la traccia che il probabile nido, restando almeno ad un metro dalla traccia in modo tale da proteggerla dalle tracce dei bagnanti che possono coprirle. Dopodiché si attende l'arrivo di una persona autorizzata in deroga, perché ricordiamo che le caretta caretta sono una specie protetta, quindi la manipolazione, il rilascio e il trasporto devono essere autorizzati dal Ministero. In questo caso il Ministero della Transizione Ecologica, diciamo così. Tutta questa attività vorrei sottolineare che è importante non perché ci piace fare questa cosa, ma perché le tartarughe piccole quando nascono sono attratte dalla fonte più luminosa, nel senso si dirigono verso l'orizzonte più luminoso. In un contesto naturale questo avviene perché le tartarughe vanno verso il mare, in un contesto dove magari ci sono delle strutture come appunto i lidi o le strade, le tartarughe vanno verso quella direzione e poi le troviamo la mattina insomma a morte. Questo è brevemente quello che facciamo. Nicola, come si comportano invece i cittadini quando c'è la presenza di un nido? Ecco, voi che monitorate anche questo, oggigiorno come è diventato il cittadino nei confronti di questo esemplare così bello? Che poi ci offre insomma uno spettacolo unico, la schiusa. Sì, quello è il momento più bello insomma. Devo dire che a distanza di oltre anni che faccio questa attività, insomma le persone si dimostrano più sensibili sicuramente, i gestori dei lidi lo stesso, anzi sono i primi insomma a segnalarci come avviene nel caso ad esempio maggiormente, proprio ho visto che qualche minuto fa parlavi di Valerio che saluto, visto che ci dà una mano pure lui. La sua zona è proprio tra quelle dove gli operatori diciamo dei lidi, quindi gli spiaggini o magari i bagnini, sono i primi a segnalare la traccia, quindi ce la segnalano prima che arriviamo noi insomma a fare il monitoraggio. E questa cosa è bellissima, questo sta avvenendo pure sul litorale casertano e su insomma pure su altre zone. Ovviamente è buon cuore del gestore, molti magari pensano ancora che gli venga sequestrato un lido o magari una parte del lido, non è così, poiché tutto diciamo se ci sta un ombrellone da spostare per mettere il nido a sole, quell'ombrellone non è che lo perdono, ma magari viene spostato un pochettino più fuori la perimetrazione e resta comunque a disposizione dei bagnanti, quindi nulla viene tolto. Diciamo così la zona che circoscriviamo è di un metro per un metro, questo è lo spazio occupato dal nido, non di più. Diciamo che i cittadini sono diventati attenti a questi tipi di episodi anche grazie ai tanti volontari e alle informazioni che fate veicolare anche sui social, insomma in tv, per preservare questo animale protetto come abbiamo prima specificato. Infatti, ringraziamento va assolutamente a voi, visto che comunque siete sempre sul pezzo e ci passate queste notizie, quindi nonostante possano sembrare monotone, primo nido, secondo nido, terzo nido, comunque tenete sempre alta l'attenzione su questo argomento e quindi ci avete di molto aiutato in questo, nel senso che pure il vostro contributo è stato fondamentale, anzi ci sono state delle persone, proprio colleghi vostri, giornalisti o altro, che si sono trovati le tracce la mattina e quindi non solo l'hanno riportata a noi, ma hanno fatto pure l'esclusiva nel senso che si trovavano lì, quindi hanno potuto fare tutto, raccogliere tutto il materiale video fotografico che gli serviva poi per gli articoli. Questo è bellissimo. Infatti, Nicola, io ho avuto una esperienza incredibile alla stazione Anton Dorn di Portici, dove con alcuni ragazzi abbiamo realizzato un piccolo documentario sulla realtà della struttura e devo dire che mi piacerebbe da parte tua un messaggio soprattutto ai bambini di sensibilizzazione perché io sono rimasto molto colpito purtroppo dall'ospedale di quella stazione dove una persona molto in gamba ci ha spiegato tutti i pericoli che ci sono in mare e soprattutto quello che accade alle tartarughe quando incappano in delle situazioni complesse tipo ingoiano della plastica e tanto altro. Vogliamo lanciare un messaggio, se ti fa piacere, soprattutto ai bambini nel rispetto del mare ma soprattutto di queste piccole creature? Assolutamente sì. Quello che possiamo dire ai bambini attraverso i genitori, visto che poi loro si faranno portavoce con i genitori, è quello di ridurre il consumo di plastica monouso. Molti bambini che io seguo nelle attività di sensibilizzazione si presentano già con la borraccia al di là di quello che stiamo per dire noi, il che è molto bello. Sta cosa ha ridotto di molto l'uso delle bottigliette di plastica, quindi è una cosa a favore nostro, sicuramente a favore dell'ambiente. Sicuramente la gestione di tutto quello che riguarda i rifiuti, quindi i bambini non devono buttare ovviamente carta a terra, e soprattutto, che è più importante, quando vedono i genitori magari che abbassano i finestrini e buttano qualcosa fuori, li devono riprendere, poi ricordiamoci che tutto quello che viene buttato anche nelle città, anche a distanza di chilometri dal mare, è molto probabile che poi attraverso il vento o magari l'acqua, viene poi convogliato nelle fogne oppure magari finisce direttamente in mare, quindi ce lo ritroviamo poi a fianco a noi mentre nuotiamo. E sicuramente poi un altro fattore è quello che riguarda purtroppo la pesca illegale, l'uso di strumenti che non sono legali e in cui purtroppo le tartarughe incappano, come possono essere queste reti posizionate anche in zone non proprio lecite, come ad esempio a poca distanza dalla riva, ovviamente è una tartaruga che passa per nidificare, non riesce a trovare un giusto passaggio e quindi resta intrappolata e muore, poiché comunque le tartarughe respirano aria, quindi hanno bisogno di risalire per prendere fiato. Nicola, se non erro, il 28 di luglio c'è una giornata di sensibilizzazione proprio in Regione Campania, in una località della Regione Campania, sulla caretta caretta, giusto o ricordo male? Sì, il 28 siamo a Baia Domizia, sicuramente siamo a Baia Domizia, poi non so se gli altri amici hanno organizzato anche altri eventi, però diciamo che se ne stanno facendo parecchi con i vari gruppi e soprattutto questo è un periodo più caldo perché con l'avvicinarsi di agosto molti lavoratori vanno in vacanza, quindi possono contribuire al ritrovamento delle tracce e alla segnalazione, quindi diciamo che questa rete qua sta crescendo proprio perché ognuno di noi, dovunque va, una volta che ha imparato a riconoscere la traccia può segnalarla nel posto dove si trova, magari ci sono persone che si stanno unendo a noi in questo periodo che vengono da fuori Regione, che però una volta imparato il segreto, tra virgolette, del riconoscimento delle tracce possono poi esportarlo nelle loro regioni. Qualche giorno fa c'è stato un nido addirittura in Liguria, che vuol dire che questo fenomeno è in crescita e soprattutto in direzione nord, quindi chi viene da noi a fare scuola può poi esportare questa cosa nelle loro regioni, nelle loro province. Nicola, ma il segreto della traccia lo possiamo svelare così almeno magari aiutiamo anche, non so, i cittadini, un semplice cittadino che magari si ritrova davanti a una traccia e non sa se effettivamente è la traccia di una tartaruga oppure no e può segnalare, ecco, possiamo dargli un indizio insomma per cercare di aiutarvi, ecco, nella ricerca di questi nidi? Non lo so se possiamo, perché poi altrimenti dobbiamo ucciderli. No, no, scherzo, scherzo. Dico, i segreti sono pochi, nel senso che la traccia deve essere, ci deve essere una traccia di uscita dall'acqua e una traccia di ritorno all'acqua. Quindi se magari è un mezzo meccanico, vediamo che questa traccia continua lungo l'arenile, non può essere una tartaruga. Poi ci deve essere una sorta di linea in mezzo che è più piatta, che è appunto il piastrone che strofina a terra la tartaruga per camminare e questa sorta di virgolette a destra e a sinistra in modo asimmetrico, quindi non le troviamo, diciamo così come siamo portati a pensare, in modo parallelo, ma in modo leggermente in dislivello. e questo indica appunto il passaggio di una tartaruga che ha nidificato o che potrebbe pure essere solo salita per controllare un attimo la spiaggia, potrebbe aver trovato dei disturbi, come può essere un altro animale o un essere umano che l'ha disturbata appunto e l'ha fatta tornare in acqua. Quindi non per forza ci deve essere una buca col nido, ma potrebbe essere pure una semplice traccia di risalita, di esplorazione e poi tornata in acqua. Quello che va fatto nel caso in cui, come è successo proprio ieri sera, a Camerota, è che si vede una tartaruga in risalita, ci si deve abbassare, stendere sulla sabbia in modo tale da non infastidire con le nostre sagome l'animale, restare appiattiti a terra a una distanza di 5-10 metri e godersi lo spettacolo, senza illuminarla, senza usare flash, poiché la luce è un fastidio per loro e potrebbero sentirsi disturbate e andarsene senza depurre. Infatti questo è fondamentale ricordarlo, perché magari presi dall'emozione di vedere una tartaruga, si va lì vicino, insomma si scattano foto, si infastidisce l'animale, quindi è importante stare a distanza e cercare di farla nidificare in tranquillità. Nicola, un'ultima cosa, tu oltre a essere referente, caretta in vista per il progetto coordinato, come abbiamo detto, della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, sei anche uno dei maggiori esponenti, insomma delle maggiori figure rappresentative dell'antibraconaggio, questo lo dobbiamo dire, perché io vedo anche tanti post tuoi, insomma, anche in passato su questo tema, che è purtroppo un tema che sentiamo spesso sul nostro territorio anche del Cilento. Sì, purtroppo questa piaga è diffusa un pochettino ovunque, da noi ci sono zone più calde, qualche anno fa è stato emanato proprio questo piano nazionale antibraconaggio con sette black spot, tra cui pure ovviamente è immancabile la nostra campagna, per quanto riguarda sia la caccia notturna agli anatidi, praticata maggiormente, diciamo, sugli specchi d'acqua, come ci stanno nella zona del Casertano, e alcuni pure nella zona dell'Ebolitano, zona Pestum, Eboli, insomma, pure ci sono questi laghetti, e soprattutto per quello che riguarda la piaga della detenzione illecita dei cardellini, dei verzellini, insomma, dei fringilliti, che le persone tengono a casa così, per sentirli canta, però ovviamente in modo illecito, nel senso che li catturano con queste reti, e il problema è che la maggior parte di questi esemplari muore, poiché non è abituata alla gabbia, quindi diciamo che su uno che riesce a sopravvivere, si adegua, si arrende allo stato di carcerazione, altri dieci, insomma, muoiono. È una grave perdita, soprattutto se consideriamo che sono animali particolarmente protetti, e insomma a rischio di estinzione, quindi si sta creando proprio questa cosa di alcuni vuoti in alcune zone, ad esempio nel Salernitano va molto di moda questa cosa di detenere cardellini nella zona di Bracigliano, Sarno, Nocera, insomma, l'agronocerino, diciamolo sì. C'è anche un mercato dietro. Io volevo chiedere a Nicola, invece, quante specie di tartaruga esistono nel mondo? Insomma, ci sono, mi sembra, da differenziare le specie marine e quelle di terra, o sbagliono, Nicola? Aggiornaci. Sì, sì, quelle marine sono sette, e sono purtroppo tutte sette a rischio di estinzione, poiché l'alterazione del loro habitat, quindi appunto del mare, l'inquinamento, la nostra presenza massiccia, l'uso di sempre più imbarcazioni, che come hai visto all'ospedale, trovi pure esemplari non solo che hanno ingerito plastica, ma anche animali che hanno impattato con i natanti, dove magari un'imbarcazione è passata direttamente sul caravace della tartaruga, spaccandolo a metà, insomma. Quindi ci sono pure queste casistiche qua, oltre che l'ingestione di plastica e di ami. Quindi diciamo che il nostro impatto ha avuto una sorta di esito negativo su tutte e sette le specie marine. Quelle terrestri non penso che se la passino meglio come stato, diciamo, di conservazione, però almeno io me ne occupo di meno. Ogni tanto mi capita di recuperare qualche Irmanni, che segnalo, come è giusto fare, al gruppo CITES della forestale locale, poiché sono animali in CITES, appunto in convenzione di Washington, e quindi vanno segnalati al ex corpo forestale dello Stato, attualmente carabinieri forestali. E tartarughe marine, quella più conosciuta, quella più insomma frequente che vediamo sui nostri litorali, è proprio la caretta caretta, giusto? Sì, quella è quella più comune. Poi abbiamo nel Mediterraneo, ci sta pure la tartaruga verde, e quella che purtroppo io ancora non ho visto, che è l'Aliuto, che è bellissima. Qualche anno fa c'è una foto che in giro pure su Facebook, in bianca e nero, fu recuperata un esemplare, ne fu recuperato un esemplare, morto nel porto di Agropoli. E insomma, se si va a controllare sui siti, insomma, è bellissima come animale, tra l'altro è la più grande tra tutte. Ed ha la particolarità di avere un carapace morbido, nel senso non è fatto come quello della caretta caretta, che è un po' più duro, ma, insomma, è un po' diversa, è un po' più bella, secondo me. Pure i piccolini, diciamo, i hatchling appenati sono molto più caratteristici, però, insomma, a noi piace pure la caretta caretta, che è l'unica carapace, insomma, a nidifica. Hai nominato Agropoli, peccato che in Agropoli, in tutti questi anni di nidificazione nel Cilento, la caretta caretta non abbia scelto una delle spiagge, però, come ci dicevamo in una delle chiacchierate, insomma, prima di questa intervista, non c'è tanto monitoraggio, anzi, non ce n'è proprio, quindi peccato, magari è un monito ai cittadini di Agropoli, ragazzi, di avvicinarsi a questo mondo, che è bellissimo, e magari cercare di scovare qualche traccia, per dare la possibilità anche alla nostra città, di ottenere questa nidificazione, che non abbiamo mai avuto. Magari, sì. Infatti, l'appello è sempre aperto, insomma, anche attraverso i vostri mezzi, che è quello di contribuire, appunto, a questa attività, che è bellissima, ripeto, al di là del piacere che c'è di passeggiare al mattino con altre persone, e poi c'è, insomma, l'obiettivo, che è quello della conservazione di una specie, che, insomma, non se la passa granché. Quindi, oltre al punto di vista della salute nostra, della passeggiata, ci sta pure l'obiettivo, che è molto, molto nobile. Assolutamente sì. Grazie, Nicola. Non ti vogliamo rubare altro tempo. Sappiamo che sei molto impegnato in questo periodo. È stato davvero piacevole, insomma, parlare di questo esemplare, che ogni anno, insomma, ci emoziona sempre più. e quindi a questo punto, magari ci ricollegheremo ad agosto, quando ci sarà la schiusa, giusto? Quando è prevista, quando sono previste, più o meno, le date? Il primo nido è quello di Castelvolturno. La schiusa è prevista in torno di midi agosto, quindi ci siamo quasi. Dopodiché, insomma, ci sarà tutto a cascata, la serie di nidi, diciamo, in ordine cronologico. Quindi ci abbiamo tutto a costo impegnato e sicuramente già a settembre lo sarà lo stesso. Solitamente i nidi si protraggono fino a ottobre, primi di novembre, quindi, insomma, ci avete pure tempo per scegliere una data e venirci a trovare. Nicola, fino a quando nidificano le tartarughe? Perdonami, cioè c'è un tempo, quindi fino a fine luglio, oppure ci può essere un nido anche ad agosto? No, no, ci stanno anche i nidi, diciamo, di posizione ai primi di agosto. Noi il monitoraggio ufficialmente lo chiudiamo ai sette. Ciò non toglie comunque che l'otto mattina potrebbe esserci una deposizione, nel senso che non dipende dalle date che scegliamo noi umani, ma sono tempi, insomma, naturali. Perfetto. Nicola, ti ringraziamo davvero di cuore per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Diciamo di poterci ricollegare e magari venire dal vivo ad assistere a uno di questi miracoli naturali che, insomma, questi bellissimi esemplari ci danno la possibilità di ammirare. Grazie ancora a te e buon lavoro e complimenti per quello che fate. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie. Grazie.